Innanzitutto Sisa l'ha puntato molto sui giovani, sui millennials, oltre il 50% dei nostri dipendenti sono millennials, questo ci fa piacere, sono un'energia insostituibile, fondamentale per l'azienda, ma soprattutto sono l'elemento principale del successo che l'azienda ha avuto e sta avendo in questi anni. Qui sono venuto a raccontare questo, quello che abbiamo fatto, quello che faremo, quindi il nostro sviluppo, la nostra capacità di innovare le nostre tecnologie, soprattutto nel mondo del digitale, il nostro tentativo, devo dire, finora è riuscito di mettere insieme il mondo più tradizionale italiano, ad esempio del retail, dei punti vendita, con quello più avanzato del digitale, ma soprattutto a chiedere a questi ragazzi delle nuove idee, nuove idee che sono sicuro arriveranno, saranno importanti, che noi cercheremo di realizzare e che cercheremo di premiare offrendo ad uno di questi ragazzi di lavorare con noi con un regolare contratto di 12 mesi.